Il più grande esponente dell'Art Nouveau spagnola è Anthony Gaudí. Anthony Gaudí lo ricordiamo per l'estrema fantasia, per la grande abilità tecnica e ingegneristica e per la profonda conoscenza delle tecniche artigianali. Anthony Gaudí si è occupato dell'espansione di Barcellona dell'Ensance e proprio su questa espansione ha costruito alcune tra le sue opere più belle. L'opera più importante e più conosciuta di Gaudí è La Sagrada Famiglia. Lui dice, volete sapere dove ho trovato la mia ispirazione? In un albero. L'albero sostiene i grossi rami, questi rami più piccoli e i rametti sostengono le foglie e ogni singola parte cresce armoniosa e magnifica. È facile vedere come Gaudí si è ispirato all'architettura gotica, ma ci sono all'interno presenti anche elementi di architettura moresca tipici della Spagna. Il tutto è miscelato, come lui dice, come se tutto fosse un organismo naturale e gli infatti trae ispirazione dalla natura mediterranea che si trova nei dintorni di Barcellona. L'effetto globale è quello di una vera e propria foresta pietrificata. All'interno la luce filtra da più direzioni, dal centro delle volte attraverso appositi fori che captano la luce esterna e attraverso le grandi vetrate perimetrali. L'effetto che si ha entrando all'interno della Chiesa è un effetto di profonda spiritualità. Nessun elemento è lasciato al caso e ogni elemento ha un'ispirazione di tipo cattolico. Ad esempio per Gaudí le linee verticali sono le linee che conducono a Dio, le linee curve sono le linee che ricordano l'uomo. Ci sono all'interno della Chiesa quattro grandi guglie che ricordano gli evangelisti. Un'altra opera famosa di Gaudí è la Pedrera, ovvero Casa Milà. È un edificio per residenze dove lui immagina un gigantesco scoglio colpito dalle onde. All'interno della casa non c'è una superficie che sia rettilinea, tutto è caratterizzato da linee curve. Grazie però a questa particolare struttura egli riesce a non creare dei pilastri all'interno della stanza, ma tutta la struttura si appoggia sui muri perimetrali. Questo è il sottotetto e sopra sul tetto lui ricava una passeggiata che consente di ammirare le vedute della città di Barcellona. Anche qui nulla è lasciato al caso, persino i cammini sono progettati con un'estrema fantasia. Lui si occupa della progettazione di ogni elemento all'interno di questa casa, che siano le decorazioni oppure gli arredi. Un'altra casa molto conosciuta a Barcellona progettata da Gaudì è Casa Batlò. Casa Batlò mostra una tecnica che si chiama il trecandis, ovvero riutilizzare pezzi di ceramica per realizzare dei mosaici. Anche qui l'ispirazione al mondo animale e al mondo vegetale, soprattutto marino, è piuttosto chiara. Un'altra grande opera di Gaudì è Parco Guell. Parco Guell è una gigantesca utopia. Infatti l'industriale Guell aveva chiesto all'architetto di progettargli un complesso residenziale in cui ospitare i suoi operai. In questo complesso ci sarebbe dovuto essere un gigantesco parco e tutte le abitazioni degli operai stessi. Come la Sagrada famiglia anche questo parco rimane incompiuto e quindi ora c'è solo più il parco e qualche residenza. Anche nel parco sono abbastanza chiari i riferimenti al mondo naturale, alle foreste e alle grotte che caratterizzano le zone intorno a Barcellona.